Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Angela Rodizio, giornalista che è collegata stasera con noi da Gerusalemme, buonasera Silvia Borrelli, corrispondente del Financial Times, buonasera Torrado Augas, giornalista, scrittore e conduttore qui sulla sette della trasmissione La Torre di Babele, buonasera Lucio Caracciolo, direttore dell'IMES. Allora è cominciata l'invasione di terra da parte di Israele in Libano, vediamo con quali conseguenze, subito dopo la pubblicità. Allora Angela Rodizio, pare che sia cominciata l'invasione di terra da parte di Israele del Libano, invasione o sono solo delle incursioni? Siamo a tre giorni dall'uccisione del leader di Hezbollah, Nasrallah. Allora qui si dice che sono forze di terra che sono entrate e sarebbero operazioni temporanee e limitate. Le ultime informazioni ci dicono che Hezbollah avrebbe ripiegato le sue posizioni almeno di cinque chilometri dentro Libano dalla frontiera con Israele. Le case tremano, in questa frontiera sono le ultime informazioni. Quindi se non è successo sta per succedere qualcosa di imminente. Allora qui la situazione è di massima tensione, un rischio di conflitto regionale, di conflitto aperto. Questo asse del rifiuto con tutte queste forze e tutti questi fronti di Israele sono tutti attivi e quindi si vedrà nei prossimi giorni. Ma come hai detto con l'uccisione di Nasrallah oggi abbiamo visto il suo vice tutto sudante, nervoso che ha detto che si vendicherebbero. Quindi si può dire che la tensione massima si sta a vedere. Ecco, Lucio Caracciolo, massima tensione Israele ha aperti quattro fronti praticamente e quindi capiamo anche come li può reggere per quanto a lungo. Hezbollah ha detto che la battaglia continuerà anche se sarà dura e comunque sono pronti anche per un'invasione di terra. Israele altrettanto, diciamo, un linguaggio altrettanto muscolare ma soprattutto azioni militari molto molto concrete. Che cosa può succedere? Beh, intanto abbiamo capito che quando Israele parla di limiti ha una sua particolare interpretazione dei limiti, nel senso che spesso quello che loro considerano limite non lo è proprio e quindi prima di valutare che tipo di incursione faranno aspetterei. Ricordo che anche a Gaza sono entrati per fasi, cioè non c'è stato lo sbarco in Normandia, sono tutte delle azioni che poi le cose sono continuate e continuano ancora. Quindi non escludi che possano arrivare fino a Beirut? Allora, qual è l'obiettivo dichiarato? L'obiettivo dichiarato è permettere alla popolazione, che sono 70 mila persone israeliana del nord che è stata costretta a evacuare causa lancio missili di Hezbollah, di tornare a casa. Considera anche che quella zona di Israele è una zona che è un feudo di Netanyahu dal punto di vista elettorale, quindi è una cosa importante. Però che cosa vuol dire farli tornare a casa? Vuol dire che devi far fuori Hezbollah perché non c'è altra... quindi il rischio è di finire dentro ancora una guerra senza fine, un altro fronte dopo Gaza, dopo la Cisgiordania dove se ne parla poco ma cadono cose sostanzialmente conquiste di territorio e così via e poi c'è la partita a 1800 km. C'è la Siria, c'è l'Iraq e l'Iran. C'è la Siria giustamente, ma per esempio oggi abbiamo già un milione di profughi libanesi in Siria e abbiamo forse più di mille morti già in Libano, quindi insomma i limiti sono abbastanza ampi. Limiti ampi, Corrado Augas, che impressione ha lei di quello che sta accadendo? L'Occidente deve stare con l'Israele di Netanyahu? L'Occidente deve stare con Israele, non con Netanyahu. Netanyahu è il capo del governo più disastroso che Israele dal 1948 abbia avuto. Inanella ha un errore, ha un atto di ferocia, ha un altro errore, su questo non c'è dubbio. Sa quale... Ma gli vanno dati dei limiti, mi scusi se lo interrompo, al Premier israeliano? Perché gli Stati Uniti da mesi e mesi dicono... Gli Stati Uniti danno dei blandi consigli per due ragioni. Una che il Presidente Biden è un Presidente a fine corsa, anziano, e l'altra è che gli Stati Uniti non sono più la potenza egemone che noi eravamo abituati a vedere su teatri, sugli scacchieri mondiali. Vorrei dire due cose. Una è che Lucio Caracciolo ha elencato i vari teatri di guerra. Al di là del numero delle vittime, dell'entità, delle distruzioni che sono a Gaza o lo sfacelo, la cosa è che l'occupazione dei territori, la cosiddetta Cisgiordania, è una delle situazioni che io trovo più avvilenti o inquietanti, secondo da che punto di vista. Perché quelli erano territori occupati temporaneamente, in teoria, dopo la guerra del 67. Occupati da Israele, sì. Una guerra, un'occupazione che si è protratta negli anni, è diventata sempre più invasiva, grazie a sempre nuove colonie, dove la vita dei palestinesi è quasi impossibile. Ma perché mi sta raccontando, ricordando questo? Scusi? Perché me lo sta ricordando? Lo sto ricordando perché quello non è un vero e proprio teatro di guerra. I teatri di guerra sono il Libano, Gaza, gli Uti, sui quali c'è scambio. Quello non è un teatro di guerra, quello è un teatro di terre occupate in maniera oppressiva. Capisce? Quella è una violazione dei limiti. A proposito di limiti. A proposito di limiti cui faceva riferimento Caracciolo prima. Il punto è, da quello che posso vedere io, è che questa guerra non è una delle solite guerre di Israele. È una guerra che nelle intenzioni di Netanyahu, ma soprattutto poi della destra biblica, la chiamerei quella ultra religiosa, deve portare Israele ai suoi confini biblici appunto, cioè dal fiume al mare, il che vuol dire prendere e finalmente annettere la Cisgiordania, fare un muro con la Giordania, prendersi magari un pezzetto di Libano fino all'Italia o comunque quello che è necessario è fare una barriera là. Tutto il resto è già... Riprendersi tutto a Gaza... E chiudere la partita. Con però il fatto che tutto questo evidentemente implica una crisi con gli americani, perché questo è già visibile. Certo gli americani gli danno le armi, ma non so fino a che punto il prossimo governo americano li appoggerà. E poi soprattutto tutta l'operazione accordi di Abramo in questo momento è congelata. Quindi sarebbero gli accordi con l'Arabia Saudita sostanzialmente tra Israele e l'Arabia Saudita. Sì, ma il paradosso è che l'Arabia Saudita in realtà non ha alcun interesse a uno Stato palestinese come anche gli Emirati eccetera. Quindi si sta giocando questa partita anche sulla pelle dei palestinesi che chiaramente sono manipolati a destra e a sinistra. Ecco, Silvia Borrelli, perché è questa forse la vera verità anche, che Israele sta facendo il lavoro sporco per l'Occidente e anche per la stragrande maggioranza dei leader arabi, per esempio, cercando di smantellare completamente Hezbollah e anche contro i palestinesi? Ma allora sicuramente i Sauditi o gli Emiratini non sarebbero dispiaciuti se venisse annientato Hezbollah e, come dire, diminuita la potenza dell'Iran, che peraltro ha già mostrato segni di debolezza in quest'ultimo anno e dal 7 ottobre, oltre a fare la voce grossa, non ha avuto un ruolo, diciamo, di primo piano. Il punto però è che secondo me Netanyahu sta giocando soprattutto una partita di politica interna, cioè lui era al minimo storico per quanto riguarda i consensi internamente al suo paese, un anno fa ha mostrato il fianco scoperto suo e dell'intelligence, adesso ha trovato una maniera in qualche misura per recuperare e ha una finestra di opportunità perché c'è una debolezza dell'Occidente, una debolezza degli Stati Uniti che per ora continuano a dargli armi. Comunque Biden fa la voce grossa ma più di tanto non riesce a fare, infatti ha detto che tutte le azioni più gravi e più discutibili di Israele in quest'ultimo mese non erano state condivise con gli Stati Uniti che loro non sapevano. Questo potrebbe fare molto male alla campagna di Kamala Harris che comunque si gioca sul filo del rasoio con Trump. Anche lì si vedrà come... Perché anche se diciamo la politica estera internazionale in genere conta poco nelle elezioni americane però dipende anche da quanto siamo davanti a una nuova escalation e anche a un nuovo... Aspetta scusami, volevo solo dare una notizia che il leader turco Erdogan ha detto che bisognerebbe che l'ONU autorizzasse l'uso della forza per fermare Israele. Angela Rodizio, diciamo che gli israeliani, la grande maggioranza dell'opinione pubblica oggi, sta con il premier Netanyahu? Allora vi do due dati che ho accolto negli ultimi giorni di esperti di sicurezza israeliani anche critici con Netanyahu. Uno è che lui sia stato a boicottare tutti questi diciamo iniziative di Biden di fare un cessato il fuoco o almeno di fare rientrare tutta questa aggressività in tutti questi fronti. Questo sarebbe anche molto determinante per le elezioni americane, assolutamente. E poi secondo un altro che mi hanno detto molto interessante sarebbe che magari la sostituzione o il sostituto di Nasrallah non sarebbe tanto una figura di Hedbollah se non questa specie di Che Guevara del Medio Oriente nella quale si è retto questo Abdel Malik Alusi che è quello che dà lo Yemen fa arrivare più missili su Israele. Cioè qua siamo a un fronte, come dicevo prima, che può portare a tutte queste guerre di desgaste come si dice, non so se si dice così in italiano, The Attrition Wars che sta portando avanti Netanyahu facendo credere e soprattutto cercando di convincere agli israeliani che un'altra guerra esistenziale, perché questa è la chiave, per fare unire tutti e soprattutto per il momento le ha fatto arrivare al 46% che non aveva avuto da tanti anni di approvazione. Cioè sono tutti dietro di lui con questa formula, un'altra volta una guerra esistenziale. È una guerra esistenziale Corrado Aujas per Israele. Per tutte e due. E mi scusi aggiungo anche l'Iran perché oggi c'è stato da parte di Netanyahu un video messaggio al popolo iraniano, li ha chiamati persiani, dicendo sarete presto liberi Israele con voi. Allora due questioni, è una guerra esistenziale per Israele e l'Iran quanto potrà fermarsi? Quanto ai persiani risaliamo alle guerre del Peloponneso, mi sembra un po' troppo. No, è esistenziale per Israele perché in 48-24, facciamo il conto, un'ottantina di anni, Israele non si è mai trovata impegnata militarmente su tanti fronti in guerre offensive. Dopo il macello, il massacro del 7 ottobre, sia chiaro. E poi una guerra esistenziale per i palestinesi perché si accennava prima la destra biblica che ha ben due rappresentanti nel governo in posizioni chiave. La destra biblica dichiaratamente vuole l'espulsione dei palestinesi e la restaurazione delle antiche province della Giudea e della Samaria nel territorio che oggi si chiama in inglese West Bank of the Jordan e in italiano Cisjordania. Quindi la drammaticità, la tragicità del momento è data dal fatto che c'è un popolo che combatte per la sua sopravvivenza sul luogo e un altro popolo che combatte per la sua difesa sul luogo. Perché guardi, Gruber, voglio ricordare una cosa. Il massacro del 7 ottobre, questo non si cita sempre, ma bisogna ricordarlo, è stato per gli israeliani un trauma profondo, lacerante. Perché dopo secoli e secoli di quello che sappiamo, Israele era finalmente la casa, il focolare inviolabile dove le persone potevano stare sicure. Invece il 7 ottobre si è scoperto che non era così e questa è stata una lacerazione. Sì, diciamo sacro e inviolabile questa casa, questa terra, abbiamo alle spalle decenni e decenni di guerra dalla creazione dello Stato di Israele. Mi posso aggiungere una piccola cosa? Le dirò di più, nel piano diabolico di Hamas una reazione furente da parte di Israele era nei piani, loro sapevano che violando il tabù della casa sicura Israele avrebbe raggito con furia e che questo avrebbe portato al suo isolamento, cosa che è puntualmente accaduta. Lucio Caracciolo, tra l'altro pare che l'esercito libanese si sia ritirato a 5 km dal confine. L'esercito libanese è una non-entità, ma è interessante quello che diceva Corrado prima. A mio avviso la questione adesso è totalmente interna a Israele. Israele decide, Israele decide quello che vuole fare. Non dimentichiamo che il 7 ottobre è stato molto probabilmente dovuto a quello che nei mesi precedenti era stata la spaccatura tremenda della società israeliana, le manifestazioni di centinaia di migliaia di persone contro Netanyahu. Noi dobbiamo considerare che oggi Israele è un paese che è sull'orlo della guerra civile, stanno accadendo cose in Israele che non avremmo mai immaginato prima. Quindi questo, ingaggiare tutti questi fronti mentre dentro hai una situazione di questo tipo è un'operazione ad alto rischio. Ed è infatti quello che subito gli americani gli dissero, non fate l'errore che abbiamo fatto noi. Cioè già l'idea di fare la deterrenza contro i terroristi mi pare una contraddizione in termini, figuriamoci. Cioè non credo affatto che Israele sia oggi più sicuro di prima, anzi non solo Israele è meno sicuro di prima, ma purtroppo gli ebrei nel mondo sono meno sicuri di prima. E se lo scopo dello Stato di Israele era proteggere gli ebrei, beh insomma. Non dici che per il momento è fallito questo obiettivo, ma ti voglio chiedere una cosa, l'Iran che non vuole chiaramente entrare in guerra diretta con Israele, quanto può resistere a non rispondere? Beh è un'ottima domanda, perché è chiaro che l'Iran non ha le risorse oggi per poter fronteggiare una vera guerra contro Israele, anche perché sarebbe una guerra anche contro l'America. Infatti uno degli obiettivi di Netanyahu è di tirare dentro gli americani, per arrivare a quello che lui ha chiamato di fatto con quel discorso un cambio di regime a Teheran. Tornate, fate i persiani e non fate più gli islamici sciiti. Sì, però quello che è abbastanza evidente è che queste guerre iniziate in questo modo abbastanza curioso, diciamo, non possono avere una fine, se non per una decisione di Israele, il che vuol dire se non attraverso un cambio in Israele, perché non dimentichiamo che buona parte dell'esercito, lo stesso Ministro della Difesa, non parliamo dei servizi, specialmente Mossad, a mano un po' meno, sono molto scettici su questo modo di condurre la guerra. Aeronautica. Aeronautica, certo, certo. Intanto è uscita adesso un'agenzia che ci dice che Unifil Italia, sapete che c'è una, nella zona cuscinetto tra Libano e Israele, c'è una missione ONU Unifil e ci sono anche circa mille italiani e sono in allarme, alto allarme e restano chiusi nella base. Allora, intanto volevo ringraziare Angela Rodizio, buon lavoro e voglio continuare con Corrado Augias e poi anche sia Caracciolo che la Borrelli. Vediamo in Italia gli insulti a Liliana Segre, le preoccupazioni del Viminale in vista dell'anniversario del 7 ottobre. C'è una crescente ondata di antisemitismo in Italia e in Europa, secondo lei? Indiscutibilmente. Però la cosa è un po' più complicata di così, perché l'antisemitismo è una componente, una componente di un fenomeno a più corde. Uno è l'antisemitismo, uno è l'anti-ebraismo che ha una connotazione religiosa portata avanti per secoli dalla Chiesa Cattolica, per esempio, uno è l'antisionismo che è ancora un'altra cosa, e cioè la legittimità della decisione dell'ONU di dare, di fare quella spartizione del 47-48 che poi non è mai venuta bene. Quindi tutte queste tre corde, ci sono occasioni nelle quali si intrecciano e agiscono tutte insieme. Questa è una di quelle occasioni per cui alcuni dissennati possono arrivare a vilipendere, insultare, ingiuriare una signora di 94 anni che ha speso la sua vita, dopo essere scampata allo sterminio a predicare la pace, a predicare la pace. Io ho parlato a lungo, più volte, con la segre. La pace, i bambini, salvate i bambini, non compromettete. Ecco, insultarle in quel modo è degno di gente che non sa bene di... Direi le parole di Gesù, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Eh, sì, forse però non ci sono scusanti per questo tipo di atteggiamenti. Silvia Borrelli, un montante antisemitismo e una montante destra estrema in Europa. L'abbiamo visto ieri con la vittoria, sono arrivati quasi al 30% del partito liberale, la FBE, partito liberale austriaco, che è un partito xenofobo, razzista, neonazi, quindi insomma una destra molto estrema. Stiamo sottovalutando o sopravvalutando in Europa queste destre estreme che crescono? Ma intanto dividerei un attimo le due cose. Credo che il crescente antisemitismo, sicuramente non giustificabile, è anche strettamente legato a quella che è stata la risposta appunto di Israele agli attacchi del 7 ottobre, quello che stiamo vedendo ormai da un anno a Gaza, anche con il coinvolgimento di civili e donne e bambini. Dopodiché per quanto riguarda, come dire, la destra estrema in Europa, bisognerebbe chiedersi che forma ha preso la destra estrema, nel senso che gli austriaci hanno dato un ulteriore segnale dopo quello dei francesi e dopo quello di altri paesi, soltanto che adesso questi partiti fanno perno su dei comuni denominatori, quindi sono contro l'immigrazione, sono partiti anti-europeisti, fortemente nazionalisti e poi nel caso dell'Austria per esempio fanno molto perno sulle libertà e come dire l'FPO ha avuto un rimbalzo dopo il Covid, dopo il lockdown, dopo quelle che sono state tra virgolette le privazioni delle libertà durante quel periodo, quindi bisogna chiedersi come mai soprattutto tra i giovani, perché poi è anche tra i giovani, soprattutto tra i 18 e i 29 anni che questo partito ha avuto successo, come mai questi messaggi hanno così tanto successo e sicuramente quello che deve preoccuparci è la debolezza del mainstream, la debolezza dei partiti europeisti a favore di questi partiti che sono soprattutto nazionalisti e che spaccheranno di questo passo l'Unione Europea. Tu sei d'accordo Lucio Caraccio, ricordiamo che oggi intanto si è spaccata la maggioranza di Giorgia Meloni perché sulla vittoria della FPO in Austria c'è stato uno scontro tra Salvini e Tajani perché Tajani ha detto che bisogna isolare i rigurgiti neonazisti e Salvini ha replicato dicendo c'è qualcuno che ha mangiato pesante e dormito male, non c'è nessun allarme neonazista. In che situazione siamo Lucio Caraccio e come si fanno? Io credo che noi dobbiamo smettere di usare categorie del passato, per esempio quello che noi chiamiamo oggi antisemitismo non è quello che ricordava prima Corrado, cioè quello cattolico e poi quello dei nazisti eccetera, è un fenomeno nuovo e per certi versi anche più pericoloso e pervasivo, l'Italia non è mai stato un paese particolarmente antisemita a parte la tradizione cattolica, ma adesso questa caccia all'ebreo secondo me è il sintomo proprio di una crisi culturale generale e dirò di più questi elementi di estrema destra, chiamiamoli così la società, perché molti partiti anche moderati, qualcuno anche di sinistra, stanno riprendendo l'agenda di questi signori pensando di bloccarli, in particolare sul tema delle migrazioni, sul tema della guerra eccetera. Quindi la cosa più pericolosa, vabbè questi possono avere il 20, il 30%, ma se il restante entra in quell'ordine culturale e magari li insegue, oppure peggio, fa muro, perché se fai muro, cioè metti insieme tutti gli altri partiti, quelli crescono, quindi è una partita molto difficile. Una partita difficile Corrado Augas e quando all'invito di Tajani oggi di isolare rigurgiti neonazisti, Salvini risponde c'è qualcuno che ha mangiato pesante e dormito male, non c'è nessun allarme neonazista. Salvini non conta perché deve sempre fare la parte di mangiafuoco, ma invece mi interessa il fenomeno che io cerco di guardare con un occhio, Lucio Caracciolo mi perdonerà, storico, cioè noi stiamo vivendo, noi nel mondo, soprattutto in Occidente, stiamo vivendo una fase storica di cambiamenti enormi, il sistema digitale, l'intelligenza artificiale, il cambio di egemonie, come ricordavamo prima, gli Stati Uniti non più nella posizione che avevano, masse di uomini e donne, di popoli che si spostano in zone rese inabitabili, il clima che... tutto questo che cosa crea? Crea paura. La paura ha avuto un peso enorme nelle elezioni austriache e quando c'è la paura la reazione è di guardare a destra, di guardare verso... Ma perché? E' perché la destra rassicura, la destra è quella che dice io risolverò i tuoi problemi, affidati a me che sono quello che ti salverà. Questo lo dice Salvini in Italia, lo dice quel signore là... Anche perché, scusami, se uno si guarda a sinistra non trova niente. Ecco, sì. Quindi la sinistra non trova le parole adatte per rassicurare un'opinione pubblica sempre più impaurita. La stessa crisi che io ho rozzamente adombrato in quelle quattro parole investe frontalmente alla sinistra. Perché la sinistra era nata e padroneggiava e guerreggiava politicamente su valori che oggi sono sbriciolati. Difatti, se lei considera che nel 1945, quando il mondo venne diviso tra est e ovest, cioè possiamo dire tra destra e sinistra, grosso modo, quella tregua ha retto. Oggi non esiste più, oggi esiste un marasma, un sud del mondo che lotta e vorrebbe andare al posto del nord del mondo. È tutto in movimento. La sinistra, quei valori non ce l'ha più. La destra è più efficiente perché valori veri non li ha mai avuti. Perché la destra ha anche sempre un capro espiatorio, ha sempre dei soluzioni facili a problemi difficili. Sto più sulle cose. Senta, Corrado, le posso chiedere, siccome il suo ultimo libro è praticamente la sua autobiografia pubblicata con Einaudi che si intitola La vita si impara. Ecco, abbiamo detto che si è creato un clima politico-culturale per cui in Italia avanza anche la destra estrema o solo in Europa. Cos'ha imparato Giorgia Meloni e i suoi fratelli d'Italia? Giorgia Meloni ha imparato un sacco di giocolieri che fanno ruotare tre palle, quattro palle. Ecco, ha imparato quel gioco lì. Dare un colpo di qua, un colpo di là, un colpo a Draghi, un colpo poi lo chiama là, un colpo alla von der Leyen, poi invece dice che l'appoggia, un colpo alle pensioni, poi dice che no. Ha imparato quel gioco lì che regge fino a quando regge. Perché poi i conti sono i conti e quando arriva il rendiconto. E allora quel gioco lì non funziona più. Credo che lo vedremo. Lo vedremo. Allora intanto vediamo il punto di Paolo Pagliaro perché a gonfiare le vele del consenso delle destre sono soprattutto anche le disuguaglianze. Guardate. La lotta di classe esiste e l'hanno vinta i ricchi, disse un giorno il plurimiliardario Warren Buffett. È accaduto anche in Italia, anzi in Italia più che altrove, come si evince dalle statistiche ultime quelle dell'Inps. Siamo profondamente disuguali davanti al fisco, disuguali nell'accesso alle cure, alla cultura, alla mobilità, alla comunicazione, all'istruzione. Siamo l'unico paese OX in cui i salari reali sono inferiori a quelli del 1990, mentre in Germania sono aumentati del 33%, in Francia del 31%, in Lituania addirittura del 276%. I 40 miliardari italiani più ricchi possiedono l'equivalente del 30% degli italiani più poveri. L'economista Thomas Piketty ha scritto che la situazione non è molto diversa da quella che in Francia portò alla rivoluzione, ma da noi non accade niente. Sulle ragioni di questa rassegnazione sociale, che è poi il vero successo dell'upper class, indaga Riccardo Stagliano in una brillante inchiesta pubblicata da Einaudi con il titolo hanno vinto i ricchi. Peregrinando tra le roccaforti della ricchezzitudine esibita da Cortina a Forte dei Marmi e nelle ridotte urbane in cui vive in povertà un italiano su dieci, Stagliano si chiede come sia possibile che la sinistra sia silente di fronte al disastro e perché di contro la destra possa impunemente aggravarlo affossando la ragionevolissima proposta di introdurre un salario minimo che come il reddito di cittadinanza senz'altro non era la soluzione alle cause strutturali della nostra debolezza, ma che certo avrebbe aiutato a ridurla. Siamo in chiusura, grazie Silvia Borrelli, grazie Lucio Caracciolo, ricordo l'ultimo numero di Limes, Barat, la strategia dell'India e grazie Corrado Augias. Due cose da dire, da ricordare, il suo ultimo libro con Einaudi, La vita si impara e soprattutto ricordare alle spedatrici e spedatori che adesso restate con noi perché c'è Corrado Augias con la sua torre di Babele e sempre nell'ambito della destra estrema del fascismo stiamo perché è il caso Ciano, quindi il caso di Galeazzo Ciano. Grazie spettatrici e spettatori, noi come sempre ci vediamo domani a 8 e mezzo. Arrivederci.